Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina se il video vi è stato anche utilissimo In questo nuovo video vi spiego come aggiustare questo crash e alcuni errori all'avvio e soprattutto anche quando giocate escono alcuni errori e vi possono portare alla schermata di Windows e chiudere Valorant Innanzitutto faremo più o meno tre cose, aggiornare i driver su gestione dei dispositivi, aggiornare i driver sul pannello di Nvidia oppure AMD e ripristinare e riparare così Valorant E vedremo se si è aggiustato, quindi mi raccomando segui ogni passaggio Iniziamo prima dalla riparazione di Valorant, quindi andiamo su impostazioni come potete vedere qui dove c'è scritto Valorant c'è scritto ripara Voi cliccate su ripara e uscirà così un breve caricamento per la riparazione e poi riavviate il pc Una volta fatto andremo su gestione dei dispositivi a trovare la nostra scheda video Aggiorna driver, cerca i driver nel computer, scegli da un elenco di driver disponibili nel computer Vedo se c'è qualcosa sul modello della mia Nvidia 1060 Super, faccio avanti E vediamo un po', e sta installando qualche driver Allora mi si è riavviata così la scheda, non lo so che cosa è successo Si sono spenti i monitor perché ho aggiornato così i driver della mia scheda video E non mi resta che fare, su chiudi, l'ho aggiornata E questo era l'aggiornamento su gestione dei dispositivi Ora andremo Adesso noi andremo su GeForce Experience per vedere se c'è qualche driver da scaricare Come potete vedere a me non c'è niente da scaricare Perché l'ultimo driver risale al 9 agosto Invece per quelli che c'hanno AMD La stessa cosa è come GeForce Experience Su AMD Radeon I driver per la vostra scheda video AMD Come la RX 580, 570 o la 480 e cose così Oppure la 6700 XT E lì vi uscirà qualche aggiornamento da fare Quindi abbiamo fatto un aggiornamento su gestione dei dispositivi Abbiamo fatto un aggiornamento sul nostro driver Che è collegato alla nostra scheda video Come GeForce Experience oppure AMD Radeon E poi la riparazione su Valorant Ok, quindi adesso non ci resta che avviare il nostro gioco E vedere se abbiamo, non so, qualche problema Oppure qualche problema l'abbiamo risolto Ecco che lo sto avviando senza problemi Spero Ok Schermata di caricamento Ok È tutto nella norma Non ha rilevato nessun problema Non sta crashando Non sta laggando Non sta facendo nulla Ok, tutto a posto Quindi Spero che si è risolto anche a voi Grazie a tutti per questa visione Ragazzi E noi ci invitiamo Ad un prossimo tutorial Ciao